Sono a fuoco, chissà. Tornano i video sui segni zodiacali, perché avete amato, amato, il video sui film abbinati a ogni segno zodiacale e mi avete chiesto di farne una rubrica, quindi io subito, subito, mi sono mossa. E quindi eccoci qui nel video di oggi in cui assegnerò ad ogni segno zodiacale una serie tv. Ah, ovviamente vi ricordo che tutto dipende dal tema natale, quindi se non vi ritrovate precisamente nelle descrizioni dei segni e nella serie tv che vi appioppo, proprio perché appunto dipende tutto dal tema natale. Se non sapete che cos'è il tema natale cercatelo su Google, fatevelo e scoprite tutti i segreti della vostra personalità. E iniziamo subito con i nostri carissimi amici dell'ariete. L'ariete è un segno focoso, d'altronde è un segno di fuoco. Infatti solitamente gli ariete sono quelli che si lasciano trasportare da questa energia che li rende spesso molto aggressivi, no? Hanno proprio questa forza d'animo incredibile. E infatti sono quelli che sbroccano de brutto. E quindi per voi carissimi ho scelto The Boys, perché secondo me potrebbe aiutarvi un po' a sfogare questa voglia di botte. Ma l'ambulanza? Raga, non ci credo, siamo tornati al periodo delle ambulanze. Incredibile. The Boys infatti è una serie tv di Amazon Prime Video che racconta di supereroi, però non nel modo solito, perché infatti c'è tutto un sottobosco molto inquietante che gira intorno al mondo dei super, perché i supereroi sono conosciuti in tutto il mondo e vengono un po' visti come delle star. Il problema è che la maggior parte di loro sono degli stronzi e fanno delle cose abominevoli. E infatti ci sono anche delle scene molto crude, scene d'azione di un certo tipo, e tanto sangue e ossa rotte soprattutto. Quindi secondo me per voi ariete che amate ste robe, cioè che avete sta voglia di litigare, perfetta. Passiamo al toro. Il toro è uno dei miei segni preferiti. Sarà perché Robert Pattinson è del toro? Assolutamente no. Per voi ho selezionato Modern Family, perché se c'è un segno attaccato alla famiglia, quello è proprio il toro. E insomma Modern Family, come da titolo, racconta di una famiglia, una famiglia se vogliamo anche abbastanza particolare, non la solita famiglia perfetta, e vi accompagna insomma in queste situazioni abbastanza assurde, perché insomma si tratta di una comedy, quindi ci sono dei risvolti narrativi abbastanza comici, però comunque affronta dei temi molto importanti questa serie ed è stata una delle prime a sdoganare certi argomenti in tv. E poi c'è Sofia Vergara, regà, cioè gemelli, estroversi, allegri, un po' falsi. So che è un po' uno stereotipo il fatto che i gemelli siano falsi, perché no, si dice che rappresentino il doppio e quindi no, la doppia faccia. In realtà questa cosa non è molto vera, però effettivamente i gemelli solitamente sono delle persone un po' subdole. Non perché siano propriamente falsi, ma perché spesso cercano di rigirare la situazione a loro favore. Però siete adorabili lo stesso, vi vogliamo bene. Perché alla fine siete simpatici, diciamocelo. Riuscite ad approcciare le persone in modo abbastanza semplice e in generale i gemelli secondo me sono simpatici, sono quelli che di solito fanno ridere nei gruppi. Per voi gemelli ho selezionato C'era una volta, perché voi siete amanti delle cose un po' sopra le righe. E c'era una volta, mi sembrava, insomma, la cosa migliore. Lo racconta tutte le storie delle fiabe, delle favole, perché c'è una sorta di mondo parallelo in cui le fiabe, soprattutto quelle Disney, sono reali. Quindi c'è Peter Pan, e c'è Elsa di Frozen, Biancaneve, c'è Nerentola, tutte quante. E poi c'è una storia d'amore tra questi qui. Insomma, è tutto molto sopra le righe, è tutto molto anche, no? Un po' emotivo. E secondo me ai gemelli piace del brutto. Passiamo al cancro, sensibili ed empatici. Il cancro è quel segno veramente così legato alle emozioni, soprattutto è empatico il cancro, cerca sempre di capire gli altri, si mette nei panni degli altri. Ed è anche un segno che ama le piccole cose della vita, no? Le piccole gioie, tipo tornare a casa in inverno, fuori c'è freddo, si fanno la cioccolata calda, no? Questo è un po' il mood. È anche un po' il mood del toro, però più del cancro a mio parere. Per voi ho selezionato Una mamma per amica. E infatti Una mamma per amica, secondo me, è la serie tv che rappresenta tutto questo. Perché non c'è niente di più cozy di Una mamma per amica. Ve ne ho parlato in tutte le salse di questa serie, quindi non sto a penderci troppe parole. Ma se volete perdere 40 minuti della vostra vita ad ascoltarmi parlare di Una mamma per amica, vi lascio qui sopra il video che ho fatto, in cui riassumo, anzi qui sopra, in cui riassumo tutta la serie, più il revival. Passiamo adesso al leone. Le nostre dive dello zodiaco. Anche il leone è un segno focoso, mosso, no? Spesso non tanto dall'aggressività, ma dal volersi imporre sugli altri, perché devono sempre essere i migliori in tutto. E soprattutto devono essere amati da tutti, perché i leone hanno bisogno di attenzioni continue, hanno bisogno di sentirsi i più fighi del mondo. E appunto, appunto dive, sono dive i leoni. E per questo motivo ho scelto per voi il trono di spade. Prima di tutto, perché secondo me può assecondare anche in questo caso il vostro bisogno di scontro, perché la gente s'ammazza. E poi perché il trono di spade è stata una delle serie più amate e più seguite in assoluto e chi meglio di un leone potrebbe apprezzare una cosa del genere. Vergine, un altro dei miei segni preferiti. Siete un po' pignoli e un po' rompipalle, però io apprezzo molto il vostro senso del dovere, essendo capricorno. E anche la vostra voglia di precisione, di schemi precisi per fare le cose. Insomma, ordine è la parola chiave con la vergine. E per voi ho scelto addirittura due serie. La prima è Hollywood di Ryan Murphy. L'ho scelta più che altro per una questione estetica, perché Hollywood ha questo questo mood molto bello, molto ordinato a mio parere. È tutto confezionato a dovere e secondo me ad una vergine piace molto questa cosa. Ogni comparto di questa serie è veramente studiato nel minimo particolare e insomma, chi meglio della vergine può apprezzare un'organizzazione così perfetta? Hollywood, come da titolo, racconta della vita ad Hollywood di una serie di personaggi e sono tutte persone che cercano di sfondare nell'industria. È una serie secondo me molto interessante perché riesce a cambiare la storia, un po' come ha fatto Tarantino in C'era una volta ad Hollywood ma in una maniera un pelino più sarcastica diciamo così perché infatti molti hanno accusato Hollywood di essere una serie politicamente corretta o comunque di cercare di esserlo ma in realtà quello che Hollywood fa è mostrarvi una realtà che non è mai esistita e che non esiste ancora oggi per farvi riflettere proprio sul perché questa realtà non esiste perché le cose che vedete succedere non sono successe probabilmente non succederanno da qui a molti anni infatti appunto è una serie molto satirica solo che è sottilmente satirica e poi ho scelto per voi anche Downton Abbey una serie inglese in costume wow che racconta la storia di questa famiglia di nobili non mi ricordo precisamente che nobiltà è però insomma sono nobili inglesi più tutti i loro domestici che sono 200 milioni insomma succedono un sacco di cose intrighi poi insomma ci sono anche dei momenti in cui la storia entra a far parte della narrazione la storia vera del mondo e l'ho trovata sempre molto interessante più che altro è una di quelle serie che fanno molta compagnia però l'ho selezionata per voi cari amici della Vergine perché anche in questo caso si tratta di una serie secondo me molto ordinata in più c'è tutto questo questo mood no molto nobiliare molto inglese tutto molto elegante no secondo me può piacervi passiamo alla bilancia e anche in questo caso ho selezionato due serie tv la prima è la fantastica signora Maisel e l'ho selezionata per voi cari amici della bilancia perché è una serie bella bella da vedere anche in questo caso vi ho parlato di questa serie 200 milioni di volte però insomma se volete saperne di più vi lascio anche in questo caso dei video qua sopra di riferimento ma per farla breve la fantastica signora Maisel racconta di questa signora Maisel che diventa una stand up comedian negli anni 50 è una serie molto divertente anche però comunque tratta dei temi secondo me abbastanza spinosi e appunto lo fa come vi dicevo con questa estetica pazzesca che alla bilancia piaceranno tantissimo la seconda serie che ho scelto per voi è Friends perché è una di quelle serie che vi accompagna per tanto tempo e racconta di questi sei amici che vivono insieme insomma racconta un po' la loro vita essendo voi delle persone molto indecise che cambiano spesso secondo me vi potrete rivedere molto nei racconti di Friends dove le cose cambiano spesso in modo repentino passiamo adesso lo scorpione ragazzi aiuto poveri scorpione sono i più odiati di tutti secondo me non sono così terribili come li descrivono vi dirò ci sono segni peggiori a mio parere infatti come vi avevo detto anche la scorsa volta io solitamente vado sempre molto d'accordo con gli scorpione perché sì saranno un po' snichi un po' cattivelli hanno sempre voglia di mettere zizzania tra la gente stanno sempre lì a sparlottare degli altri però in fondo gli scorpione hanno anche un cuore d'oro sanno amare molto bene e quando si legano a qualcuno è fatta non si escozzano più anzi sanno essere anche tanto gelosi e spesso anche invidiosi degli altri e per gli amici scorpione ho selezionato how to get away with murder perché secondo me gli stinti omicidi di voi scorpione possono ritrovarsi molto in questa serie tv poi dai ci sono anche tutte le storielle d'amore tra i tizi cioè che a voi piacciono molto anche se più che le storie d'amore vi interessa la parte che succede in camera da letto lo sappiamo passiamo agli amici sagittario qui ho avuto delle difficoltà metto le mani avanti voi del sagittario siete così volubili così imprevedibili che nemmeno io riuscivo ad incasellarvi sagittario è un segno particolare sono spesso quelli che amano i viaggi della vita quelli che partono per il peru e poi tornano e poi decidono di ripartire per un altro mese per ritrovare se stessi sono spesso molto spirituali crescono spesso in queste cose un po' mistiche insomma hanno un po' questo animo non so neanche come descriverlo perché siete troppo e per voi quindi ho selezionato Sense8 più che altro perché è una serie molto particolare in cui ci sono anche molti viaggi dato che voi siete insomma amanti di queste cose però non mi sento soddisfatta di questa scelta quindi mi scuso con gli amici sagittario però veramente siete troppo anche per me in ogni caso io comunque vi consiglio di recuperare Sense8 perché è una serie molto interessante purtroppo poi è stata cancellata da Netflix ma va bene ed è una serie creata appunto dalle sorelle Wachowski che racconta di queste persone in giro per il mondo che vengono collegate in un certo senso a livello mentale e possono sentire i sentimenti degli altri o comunque possono provare quello che l'altra persona prova non so se mi sono spiegata comunque è una serie veramente molto bella che vi consiglio assolutamente di recuperare a prescindere dal fatto che voi siate dei sagittario passiamo ai capricorno i miei carissimi capricorno siamo delle persone terribili siamo freddi e calcolatori e ci importa solo dei soldi fondamentalmente ma sappiamo essere anche delle persone gentili siamo molto legati alle persone a cui vogliamo bene quelle due persone a cui vogliamo bene che sono due ma comunque noi ci teniamo molto e faremo di tutto per quelle persone e quindi per la nostra voglia di avere sempre ragione e soprattutto di voler sottolineare come gli altri abbiano torto e non abbiano fatto bene le loro ricerche ho scelto Sherlock perché Sherlock è palesemente un capricorno ama stare da solo detesta quando gli altri invadono il suo spazio personale e soprattutto è sempre lì a farsi mille seghe mentali e a mettere in evidenza quanto le altre persone non siano in grado di capire il suo genio sì ve l'ho detto i capricorni non sono delle persone terribili però siamo fatti così vogliateci bene per come siamo passiamo all'acquario i nostri strambi l'acquario è uno dei segni più strani appunto dello zodiaco sono solitamente quelle persone che vi approcciano nei modi più improbabili e che vi raccontano le cose più improbabili e infatti proprio per il loro essere un po' strani ho selezionato anche in questo caso due serie tv che per il mio parere sono abbastanza strane la prima è Dark Dark è una serie molto amata e anche definita una delle serie più complicate di tutte perché si parla di viaggi nel tempo ma in un modo molto particolare poi c'è tutto questo mood un po' dark appunto un po' cupo che la rende veramente strana e infatti insomma se la seguite saprete che dovete stare super attenti e spesso prendere appunti per poi poter capire che cosa stia succedendo l'altra serie che ho selezionato per i nostri amici acquario è ovviamente Doctor Who viaggi nel tempo e nello spazio un tizio che cambia forma e che viaggia in una cabina della polizia alieni strani mostri di ogni genere è perfetta proprio acquario e concludiamo con i pesci ipersensibili oh mio dio non potete dire niente ai pesci perché ci rimarranno male qualsiasi cosa voi gli diciate perché appunto sono ipersensibili ma allo stesso tempo estremamente permalosi quindi qualsiasi cosa la prendono sul personale la prendono come un attacco ai loro sentimenti per questo vostro essere legati così tanto alle emotività alle emozioni ho selezionato per voi The Cezas perché è una serie dove si piange come poche cose al mondo dove praticamente vi strappano il cuore e ve lo fracelano ad ogni episodio è una serie che racconta insomma la storia di questa famiglia facendo avanti e indietro nel tempo ed è una storia veramente wow carica di emozioni carica di sostanza diciamo così e per voi pesci è perfetta perfetta perché voi amate queste cose eccessivamente pregne di no di tutte queste robe lo so ne sto parlando come se se l'emotività fosse una cosa terribile ma capitemi sono un capricorno sono distaccata dalle mie emozioni anche se in realtà non è vero perché ho la luna in pesci ed è una cosa terribile non avete idea di cosa voglia dire essere un capricorno con la luna in pesci è come se avessi due personalità ma lasciamo perdere quindi siamo giunti alla fine io spero di avervi consigliato delle serie tv che vi possano piacere a prescindere ovviamente dal vostro segno zodiacale fatemi sapere mi raccomando se ci ho azzeccato o comunque se vi rivedete nelle caratteristiche dei segni e soprattutto se vi piacciono le serie che ho nominato e nulla come al solito prendete questi video per quello che sono quando si parla di segni zodiacali si scherza fondamentalmente io poi non sono una che ci crede particolarmente però mi piace insomma scherzare sulle caratteristiche delle persone in base ai segni zodiacali è una cosa divertente da fare e nulla quindi io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto mi raccomando qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social seguitemi su Instagram come sempre è l'unico social che usa nell'info box poi trovate anche la mia collaborazione con Pampling infatti utilizzando il mio codice sconto CIPOLOTTO avrete il 20% di sconto su tutti gli acquisti sul loro sito quindi insomma se vi piacciono film, serie tv, videogiochi e volete le magliette a tema le t-shirt i calzini le cover del telefono insomma lì trovate qualsiasi cosa e non l'ha detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao